Quanto rammarico c'è? Tanto, tanto perché comunque sopra 2-0 poi perdertela 2 non è mai bello. Siamo state bravissime, abbiamo un po' subito l'ingresso di Antropova che ci ha messo veramente in difficoltà, un grandissimo giocatore. C'è un po' di dispiacere perché veramente potevamo farcela, peccato, però si sono viste comunque delle belle cose. Bisogna comunque pensare positivo e abbiamo fatto vedere della bella pallavolo. Mentre i prezzi, nonostante la maggior parte di difficoltà, comunque siamo andati in vantaggio. Poi, secondo te, cos'è mancato? Ma abbiamo comunque perso qualche pallone stupido, poi Scandicci è comunque una squadra forte e esperta. Quando è il momento che conta, sa giocare. Noi forse è preso un po' dall'agitazione, così abbiamo magari mollato un pochino, sbagliando ovviamente. Però loro ci hanno messo in difficoltà, quindi complimenti a loro. È stata una partita con grandi protezioni tua e di mali, no? Sei soddisfatti della tua prova? Sì, sono contenta. Avrei preferito portare a casa il risultato, prima di tutto. Però sì, sono contenta, c'è sempre comunque da migliorare.